The only way to survive is to automate your sock. E' giusta quella la tua presentazione? Ho azzeccato il titolo, bene? Giustissimo. Prego Roberto. Grazie mille. Buon dia a tutti. Beh allora, l'idea del talk è parlare un attimino di automation. Perché mi occupo di automation in Infosec. Vabbè, l'agenda ovviamente. Cercherò di andare il più velocemente possibile. Così andiamo a pranzo perché ho una fame pazzesca. Diciamo che sono a Dublino ormai da otto anni. Lavoro per un'azienda che si chiama DocuSign. E' un'azienda americana. Sono un senior manager di SQT Engineering. I due team che gestisco sono Application Security. e un team di Threat Hunting e Automation. In precedenza ero un malware analyst in Symantec, sempre a Dublino. Facevo reversing, eccetera, eccetera. E sono stato anche un consulente qui in Italia. Facevo PT, VI, eccetera, eccetera. Potete contattarmi ovviamente a Twitter, LinkedIn, eccetera, eccetera. DocuSign. Non so quanti di voi conosceranno DocuSign. DocuSign è un'azienda americana, cotata in borsa, valutata, credo ora, circa 12 miliardi di dollari. L'obiettivo di DocuSign è quello di digitalizzare i contratti o ogni tipo di agreement. Ed è un software as a service. I principali threats o rischi che un software as a service ha sono svariati. Qui ne ho messi alcuni. Phishing è una minaccia molto importante per DocuSign. Infatti DocuSign è uno dei cinque brand più targetizzati da phishing. altri problemi ovviamente sono malware, sono sea of road, quindi social engineering. Third party risk, ovviamente. Ma schippiamo questo che non è molto interessante. Partiamo da questa slide molto più interessante. Come potete vedere ci sono stati un sacco di data breach. I data breach non si fermano, continuano. E ci sono aziende piccole e grandi, basta pensare a Marriott, basta pensare a Equifax. E un sacco di dati sono stati collezionati, condivisi online. E ovviamente un'altra slide molto interessante, sempre legata ai data breach qui, è un po' sfasato perché è colpa del mio Mac. però c'è una ricerca molto interessante, che è una ricerca del Polymon Institute. L'hanno fatta forse 4-5 anni che c'è ormai. Vi consiglio di leggere perché è molto interessante. Le cose che sono saltate fuori sono che intanto ci vogliono circa 280 giorni prima di identificare un attacco. Quindi dal giorno zero, quando l'attaccante entra nel sistema di aziendali, ci vogliono circa 280 giorni. Il costo medio di un data breach, che poi ovviamente se leggete il paper varia da grandezza dell'azienda, i security controls che ci sono in place, quanti dati sono stati condivisi, è di circa 4 milioni di dollari. E questi 4 milioni di dollari, purtroppo non si vede benissimo dalla slide, ci sono diverse tipologie di costi associati. Una, ovviamente i costi della detection and response, ci sono dei costi legati alla notification, perché ovviamente quando si viene bucati bisogna fornire i dettagli sia per il GDPR sia agli utenti, quindi mandare mail in realtà è un costo. Ci deve essere anche un supporto tecnico sempre disponibile, perché poi ovviamente i clienti chiamano e dicono, no, cosa è successo qui. E un'altra cosa molto importante è che quando si viene bucati, soprattutto se si lavorano con aziende molto grosse, ti dicono, ok, sei stato bucato, mi fai vedere un report di cosa è successo? Quindi il tuo team lavora 24 ore su 24, mi fai un report della Madonna e lo ti dicono, no, interessante, però non mi basta, io voglio che assumi Mandiant, per esempio, quindi tu spendi 40-80k per due settimane di lavoro, questo è un altro costo aggiuntivo, oltre che tutti i vari security control che devi implementare. E un'altra cosa interessante che è uscita fuori è che senza automation questo costo di 4 milioni di dollari sale del 95%, quindi se un SOC non ha un automation in place, tendenzialmente questo costo può andare a salire fino a 4 milioni di dollari, che è molto interessante. E qui ecco perché volevo parlarvi di automation, nel SOC. Ci sono ovviamente diversi motivi per il quale fare automation. Intanto, vabbè, poi andiamo nel documento che ha rilasciato, l'ha ovviamente detto, il 95% di costo in più se non hai automation, però quali sono altri problemi e quali sono le altre motivazioni per cui bisogna implementare automation? Intanto c'è un cyber security skills gap, perdonatemi. È ben noto, ovviamente. Le aziende fanno fatica a fare retention, le persone se ne vanno. E un'altra piccola problematica è che ci sono tanti, tanti, tanta, tanta richiesta di persone qualificate, ma il costo è molto, molto alto. Soprattutto all'estero, ovviamente. Quindi ci sono dei budget constraints, ci sono ovviamente anche, ci sono anche problemi del tipo che, io non uso un solo tool all'interno dell'azienda, utilizzo un IV, utilizzo un firewall, utilizzo VPN, single sign on, tutto quello che volete. e tutti questi tools producono dei dati. Quindi, tendenzialmente in DocuSign i nostri sims raccolgono, se non ricordo male, 14-15 terabatti di dati al giorno. È pressoché impossibile analizzarli manualmente. Ed è pressoché impossibile fare delle correlation rules in modo manuale. E un'altra cosa interessante che mi preme dire è che è importante anche l'information sharing. Perché io, azienda, posso vedere un certo tipo di attacco che magari un mio partner, un'azienda che è, magari anche un competitor, o comunque un'azienda che fa un lavoro simile, può vedere la stessa tipologia di attacco. Quindi se io lo identifico, la cosa molto interessante che facciamo in DocuSign è condividere questi tipi di IOC, URL, domini, IP, eccetera, eccetera, e ovviamente bisogna farlo anche in maniera automatizzata, sotto certi punti di vista. E, dolcissimo in fondo, una cosa molto importante che mi preme dire è machine learning. Il machine learning è, secondo me, utilissima, ma è una buzzword della madonna. Molta gente dice, oh, cavolo, machine learning, il machine learning è utile, funziona, guarda, fanno l'auto training, tempo due giorni, è tutto trainato, il sistema si fa l'auto training da solo, è bulletproof. Io ovviamente non posso dire niente, però quello che penso è bullshit, ovviamente, perché è davvero impossibile, soprattutto perché le features che vengono estratte possono variare da ambiente a ambiente. Però ovviamente, alcune tipologie di machine learning, in base alle features estratte, possono essere effettivamente reliable e utili. Quindi tenete presente che potrebbe essere un'ottima soluzione, ma vagliate bene i vendo, prima di avere problemi, dopo che lo avete comprato. Un'altra buzzword della madonna è ovviamente SOAR, che è Security Orchestration Automation Response Tool. Sono sicuramente molto utili, e senza SOAR, praticamente sarebbe, secondo il mio parere, impossibile gestire tutte le tipologie di attacchi. Ci sono, c'è un, Gartner ha rilasciato un documento molto interessante, che è il Market Guide for Security Orchestration Automation Response Solutions, dove ci sono diverse tipologie di vendor, tra i quali The Misto e Phantom. Sicuramente molto interessanti, molto fighi, però ci sono anche delle soluzioni open source. In realtà, questi due sono due sistemi open source, Luigi e Hugen, che non sono davvero SOAR, ma sono dei workflow automation systems. Noi abbiamo implementato Hugen, completamente modificato, back-end, eccetera, eccetera, perché questi tool sono molto costosi. E soprattutto, se parlate con dei vendor che vi fanno pagare per il numero di eventi, non so quanto avremmo potuto spendere. noi gestiamo circa 600.000 eventi al giorno, e quindi avremo un costo elevatissimo. Quindi, build versus buy, ovviamente c'è sempre un balance qui, è sempre difficile fare una scelta. Intanto dovete avere qualcuno all'interno dell'azienda che sia in grado di sviluppare, altrimenti senza expertise inside è molto complesso. però secondo me è molto utile, vi farò vedere una slide dopo, di alcuni tool sviluppati in-house. Il problema del build, a mio parere, e ovviamente non sto dicendo dovete andare a svilupparvi Carbon, Black, o Splunk, o quello che è, però per determinati tipi di tools può valere la pena. Però il build, il buy, scusate, un problema del buy è che c'è un vendor lock-in, ovvero voi vi comprate la soluzione, se non vi piace, soprattutto se queste soluzioni tendenzialmente, soluzioni di SOAR, utilizzano anche, implementano anche un incident management system, quindi tutti i vostri dati devono rimanere all'interno dell'incident management system, o comunque rimangono tendenzialmente, e se volete cambiare perché non funziona, beh, cosa succede? Succede che, in base alle data retention policy della vostra azienda, per almeno un anno dovete tenere questa soluzione, quindi pagarla anche se non vi piace. Un'altra cosa che molti dicono, ho parlato con tanti venni e dicono, no, 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 è plug and play, sei sicuro? Sì, sì, beh, però non tieni presente che se tu ti compri Splunk, se non hai expertise in house, ti dici, ok, quanti dati vuoi ingestire al giorno nel Splunk? Non so, terabyte, gigabyte, ok, quanti search ad vuoi? Ok, come gestisci il forward? Vuoi un universal forwarder? Vuoi un heavy forwarder? Come vuoi fare questa cosa? Beh, senza expertise hai bisogno di qualcuno che ti spieghi, quindi paghi anche professional services. Una domanda, perché ci sono 7 minuti e 24, 23, 22 secondi? C'è qualcosa sfasato o solo 7 minuti? Ok, ottimo. Ne hai di più, però se ne guadagni qualcuno, quindi vai, vai, scherzo, scherzo, ne hai 33, formalmente. Ah, minchia, allora... no, minchia, sì, però se riusciamo a farne un po' meno... Andiamo a pranzo prima. Guadagniamo. No, lo dico perché... Ma è molto... No, perché sembra che non sia interessante, detto così. Mi sembra... Però lo sai che io... Mi sembra un'ottima idea. Vai. Dove ero rimasto? Praticamente perché bisogna talvolta fare un build all'interno, cioè sviluppare internamente? Intanto per queste ragioni. E poi in DocuSign utilizziamo automation pesantemente, perché secondo me l'unico modo per scalare è automatizzare. Il problema è che abbiamo diverse soluzioni che utilizziamo. parliamo di Splunk, parliamo di Cisco, parliamo di Carbon Black, eccetera. E per molte soluzioni di queste, siccome utilizziamo pesantemente automation, abbiamo trovato degli edge cases che, anche se le API, nel loro API, nella description, dicono, eh sì, puoi fare questo. In realtà non sempre è così. Quindi non avendo soluzioni, cioè avendo soluzioni interne, siamo riusciti a bypassare in qualche modo queste tipologie di richieste, per esempio mettendoci delle sliver, facendo dei loop assurdi, non sono belli da vedere, però riusciamo a bypassare questo problema. Anche se noi rendiamo, diciamo al vendor, eh guarda ci sono questi problemi, ma un'azienda come Splunk, un'azienda come Cisco, non ci mette un giorno a risolvere il problema. Ovviamente tu rimani col culo per terra, diciamo se l'ha chiaro. insomma. E queste sono ovviamente delle motivazioni per le quali è meglio costruire rispetto che comprare. Non tutto, ovviamente, dipende anche dal vostro budget. Vorrei farvi qualche scenario, ma prima mi bevo un altro goccio di acqua. Allora, a parte che l'acqua, cioè è finito il tempo, grazie per l'acqua. Vabbè, scusami. Per perdite. Vai. Vi vorrei far vedere uno scenario di cosa abbiamo implementato in DocuSign per l'analisi di phishing. Ovviamente phishing è una minaccia molto importante per DocuSign, è un rischio importante. Quindi noi cerchiamo di collezionare dati URL di phishing e di malware da diverse sorgenti. Compriamo dei feeds da AV vendors e da altre aziende, collezioniamo dati via threat sharing, collezioniamo dati anche da open source intelligent sources, ovviamente. Facciamo analisi dei log, collezioniamo eventualmente degli URL strani o che possono essere sospetti. Tutte le mail che finiscono in spam a DocuSign.com vanno a finire in un automation system, anche gli attachment, anche i PDF, i word. E ovviamente tutta questa roba qui, oltre che brand watch, quindi analizziamo Twitter per eventualmente qualcuno che tagga DocuSign con un URL, lo tendenzialmente lo analizziamo. Tutta questa roba va a finire in una sandbox o in un tool, che ne parlerò a breve, fa analisi e classificazioni di URL. e in base alla tipologia di classification, che può essere malware, phishing, clean, porn, e in base alla classificazione noi facciamo su tutti i nostri log, delle nostre macchine interne, del laptop e PC, active directory, eccetera, facciamo un'analisi di chi ha cliccato cosa e se qualcuno ha cliccato un URL che abbiamo classificato come phishing, succede che innanzitutto creiamo un incidente, questo incidente, facciamo un data enrichment e vi spiego a breve cosa intendo per data enrichment, inviamo una mail anche all'utente, vi farò vedere a breve perché, e in base alla tipologia di detection, auto isoliamo la macchina, per essere sicuri, ovviamente se è una detection reliable, perché ovviamente testiamo le detection prima. Un'altra cosa che mi preme dire è che tutti i phishing che sono brandizzati DocuSign mandiamo una notice per takedown o anche type of squatting. Tutto questo in maniera praticamente automatizzata. Se lo fate a mano, parliamo di ore, forse giorni, fate fare da una macchina, parliamo di minuti. Questo è una parte del phishing scenario che è implementato in DocuSign. Sembrava semplice, ma in realtà è un bel mattone, non è proprio semplicissimo. E quando parlo di data enrichment, vediamo se è qui, noi creiamo un incidente e nell'incidente inseriamo l'utente che ha cliccato su questa cosa, il processo, quindi tenete presente che questo incidente è creato e una persona eventualmente dopo potrà fare l'analisi. Quindi c'è una risposta incidente molto più veloce, perché io ti fornisco tutte le informazioni dell'incidente e le ricerche che tu fai nel sim o nei vari sistemi di log collection sono minime. è più facile e veloce trovare le informazioni. E come dicevo, identifichiamo i parent process, il child, i nomi, MD5, eccetera, eccetera. facciamo delle richieste interne a una Threat Intelligence Platform che colleziona dati e l'idea è che quando io ho davanti un possibile phishing, la Threat Intelligence Platform mi dice guarda che questo URL, questo dominio è stato visto per la prima volta dalla Threat Intelligence Platform due giorni fa, quindi è abbastanza nuovo e l'ultima volta che l'ho visto è ieri. Interessante, queriamo VirusTotal e altri sistemi, collezioniamo informazioni anche dell'utente, dove è locato, dove, in quale dipartimento lavora, in modo tale che possiamo generare delle statistiche e dire ok, per quale motivo questa gente è targettizzata, perché i sales sono targettizzati e soprattutto perché questo idiota continua a cliccare su phishing link in modo tale da fare security awareness, ovviamente. E per finire mandiamo anche una mail dicendogli ehi Roberto, guarda chi è alla tal ora, a tal data, tu sei andato su questo phishing con lo screenshot, su questo URL che per noi è phishing, hai per caso inserito qualcosa? voi ridete, ma in realtà è molto utile, a parte che c'è un'automation dietro che controlla tutti i VPN access e i single sign on, se ci sono accessi da indirizzi P che non sono diciamo legati a docusign, per esempio non abbiamo uffici in Egitto, in automatico facciamo rotate la password, però molta gente dice ah sì, ci ho cliccato, quando lui risponde a questa mail in automatico il nostro case management assiste nella legge inserisce la risposta dell'utente e l'inserente risponde e dice cazzo questo ha inserito i dettagli clicca bottoncino passo resettata e poi ovviamente dopo c'è tutto il processo di analisi e perché cosa è successo eccetera eccetera e stavamo parlando prima di pescatore pescatore è un sistema che ho sviluppato mai tre anni fa l'ho chiamato pescatore perché principalmente analizza fishing non volevo chiamarlo fisherman perché volevo insegnare la lingua italiana ai miei colleghi e quindi l'ho chiamato pescatore con l'icona di Sanpei però ovviamente l'icona non c'è però vabbè il pescatore in in un nutshell praticamente non fa altro che fare delle tipologie di analisi tipo euristiche analizziamo l'url o il contenuto della pagina e se un url è di wordpress palesemente wpa include images e poi c'è un file php che dice it's a bit strange quindi di conseguenza possiamo fare una detection lì oppure alcune tipologie di documenti di pagine html che collezioniamo non sono renderizzati o comunque c'è dentro un sacco di javascript che vedi per esempio expert kits non possono essere analizzati in quel modo quindi c'è un ci sono dei python code che possono essere inseriti all'interno del sistema in modo tale che io sviluppo una detection algoritmica all'interno del tool oltre che utilizzare reputation good or bad le yararus che ci aiutano anche ad identificare il brand targetizzato e qualche machine learning ne ho parlato prima però in realtà sono abbastanza reliable soprattutto se tu sai cosa stai cercando la parte più difficile è stata identificare quali features devo utilizzare per farci machine learning ne ho implementati diversi per per esempio Navibase non utilizzo le stesse features di random forest perché volevo identificare se potevo fare l'ensemble learning di diversi algoritmi per capire se la reliability della classification era era buona effettivamente lo è ovviamente se per esempio screenshot detecta qualcosa classifica qualcosa non verrà mai classificato ci vuole almeno un altro algoritmo per identificare quella pagina come phishing ci sono un po' di valori sfasati forse però in realtà questo sistema l'ho implementato perché inizialmente utilizzavamo un vendor ci costava circa 150k all'anno mandavamo però se non sbaglio 4.000 url al mese adesso siamo a 17.000 quindi potete immaginare quanto potrebbe costare adesso e il costo del sistema è di circa 4-5k all'anno a parte che un po' ovviamente va un po' mantenuto però è abbastanza fattibile rispetto ai 150 probabilmente 200-300k e mensilmente classifichiamo 17.000 url mandiamo 500 take down notice e in media ci vogliono circa due giorni per tirare giù un sito e l'average time to classify è 5-10 minuti e il tempo che ci metto ad allertare l'incident responder è di 3 minuti quindi supponendo ci vogliono 20 minuti di artanto prima che noi identifichiamo se qualcuno ha cliccato su un phishing e questo aiuta nella risposta incidente perché se qualcuno viene compromesso le informazioni prima che l'attaccante riesca a recuperare le informazioni e potrebbe recuperarle è più veloce più semplice questo è un altro scenario che volevo aggiungere è molto più semplice però l'idea è quello che abbiamo un sistema di detection comportamentali utilizziamo un tool che si chiama CarbonBlack l'idea è quella di scrivere la detection ma non sui domini sull'IP perché sono alcune volte possono funzionare ma sono un po' stupide è quella di identificare il behavior del tipo Word crea un processo PowerShell WScript che poi crea un PowerShell e questo è una detection abbastanza reliable perché è tipica di un'esecuzione di macro soprattutto se avete disabilitato le macro però alcuni utenti magari le riabilitano e vedete questa cosa e dite è molto strano quindi per certe tipologie di detection in automatico CarbonBlack informa il nostro source system il source dice questa detection deve isolare la macchina immediatamente isola la macchina perché è reliable altre detection invece collezioniamo dati queriamo la 3D Intelligent Platform VirusTot o quello che volete e poi generiamo l'incidente e facciamo l'enrichment dell'incidente questo a destra alla vostra destra è come è implementato all'interno di DocuSign e per enrichment e anche qui intendo che intanto abbiamo informazioni dell'utente i processi e la cosa interessante è che c'è un Base64 encoded command in PowerShell e il source è in grado di identificare che un Base64 lo decoda possiamo scriverci delle detection sul Base64 per esempio ci sono delle persone che utilizzano PowerShell ma sono dei developer sappiamo che fanno determinate tipologie di operazioni facciamo una detection sulla stringa questo incidente viene creato ma è automaticamente chiuso perché siamo sicuri al 99.9% che 99% che è pulita questa cosa ma la cosa interessante è che identifichiamo questa macchina questo è un esempio di un pen test all'interno dell'azienda che è stato assunto per fare un pen test questa macchina quante cose strane ha fatto negli ultimi sette giorni quindi l'incident responder ha davanti un po' di informazioni ah cazzo questa macchina ha fatto un po' di robe strane soprattutto se lo status dell'incidente è resolved che significa che qualcuno ha effettivamente fatto qualche cappellata e la stessa cosa vale per la detection quindi possiamo identificare le detection che sono false positive prone le detection che stanno triggerando parecchio e anche la reliability della detection quindi sappiamo che ok questa detection continua a triggerare quindi è probabile che ci sia qualcuno che continua a romperci le palle all'interno dell'azienda e altre cose che ovviamente come dicevo prima threat intelligence collezioniamo dati da diversi sistemi e un'altra cosa interessante è che quando tu hai tante detection tu devi essere in grado di fornire all'incident responder qualcosa del tipo ok questa detection fa queste cose quindi ci deve essere una standard operating procedure da seguire e per ogni detection che creiamo noi creiamo anche un suggested action che ti dice ok questa detection vuol dire l'abbiamo fatto questa detection per questi motivi mappiamo la detection con le micro le micro attack areas e in modo tale che l'incident risponda in grado di dire ok devo fare questo 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 questi sono i falsi positivi quindi ah questa roba qui sembra un falso positivo fammici guardare ancora un pochino di più quindi l'incident responder ha più informazioni per rispondere più velocemente all'incidente e un'altra cosa interessante che con il my attack framework è una matrice con tutti i vari tipologi di attacchi io riesco a generare questa matrice e dire ok cavolo io sto detettando un botto con questa tipologia di attacco ma ho poca visibilità su questa altra tipologia di attacco quindi cosa posso fare perché non ce l'ho perché non avevo tempo non l'ho priorizzato o forse non ho i log quindi prendo e inizio ad identificare quali sono i log che mi permettono di fare questa tipologia di detection e questo ci permette di capire dove sono i problemi o comunque area of improvement e concluderei con un po' di anticipo spero perché ho fame l'idea è che se volete scalare dovete automatizzare non ce ne sono di palle non bisogna darsi per vinto non è semplice e soprattutto una volta mi hanno detto ma si tu ce l'hai già sta cosa è facile per te dirlo sì io tre anni fa sta roba non ce l'avevo ci ho investito tempo e l'ho fatta potrebbe anche aiutare come si dice in italiano save some money risparmiare un po' di soldi e non bisogna avere paura di sviluppare tools all'interno dell'azienda thank you possiamo sederci posso sedermi finita molto bene per i contenuti e per il tempo grazie ci sono un sacco di domande così perdiamo un po' di tempo partiamo da quelle facili pescatore è open source tutti me l'hanno chiesto no no ok bene allora non facciamo neanche in realtà c'era c'era di renderlo open source ma il codice fa abbastanza vomitare quindi ho deciso di evitare di fare questa brutta figuraccia è vero è vero poi altre due domande che sono simili se in docusign create 17 terabyte di dati dei vostri log al giorno quanta retention avete per questi dati e cosa usate per gestirla e l'altra domanda è come viene gestita la retention dei dati sul SIEM con 14-15 terabyte al giorno questa è un'ottima domanda ci sono noi abbiamo due tipi di logie di sim c'è un sim che gestisce che mantiene i dati per ci sono diverse tipologie di dati che gestiamo il flow cosa fa la persona sull'intera piattaforma questi sono tenuti per se non ricordo male 60 giorni robe del tipo windows event logs security logs robe che sono legate alla security sono date retention di un anno per quanto riguarda questo è il production environment per quanto riguarda corporate environment ogni carbon black retention è di 30 giorni perché carbon black gestisce tira fuori un botto forse 60 non mi ricordo 30-60 giorni perché gestisce tira fuori una bordata di dati assurda utili ma un botto per quanto riguarda invece network logs windows event è sempre di un anno ok l'ultima con la multi-factor authentication elimini i problemi di phishing questa mi piaceva perché era generica no no grazie infatti sono d'accordo anch'io volevo sapere se dicevi sì allora direi di sì allora vuoi dire sì allora quali sono quelle cose che bloccano all'adozione di un sistema di automation mancanza di documentazione delle procedure altro che cosa blocca dall'adozione di un sistema di automation in sostanza secondo te credo che sia una richiesta di parere personale non penso sì l'automation è utile perché ti risparmi un sacco di tempo e fai un sacco di cose velocemente se non è documentato sei fottuto praticamente devi documentare quanto puoi e devi ovviamente avere più persone che sanno come funziona quella tipologia di detection e automation in modo tale che se uno se ne va cosa che succede tu devi essere in grado di risolvere il problema fast ottimo ti ringrazio ce ne sono delle altre ma Roberto non mangia quindi se avete domande per lui durante la pausa pranzo potete farle direttamente grazie a tutti